Dalle ore 5 di questa mattina i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme stanno eseguendo 21 ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 9 interdittive. Contestualmente sono in corso di esecuzione 23 perquisizioni domiciliari e 10 locali nei confronti di soggetti residenti nei comuni di Lamezia Terme, Serra Stretta, Soveria Mannelli, Gizzeria, Maida, Reggio Calabria e Palmi, per i reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali turbata libertà degli incanti, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, induzione indebita a dare o promettere utilità e contro il patrimonio, tra i quali autoriciclaggio ed estorsione. L'indagine si è incentrata su anomalie relative a numerose vendite giudiziarie nell'ordine di circa 30 aste pubbliche, che si sono tenute nel corso dell'anno 2018 presso il Tribunale di Lamezia Terme, ovvero presso l'Associazione Notarile, ubicata all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia, nell'ambito delle quali sono state rilevate turbative finalizzate a dirottare l'esito finale verso l'obiettivo prefissato dagli indagati. L'attività investigativa, svolta dalle fiamme gialle di Lamezia Terme, sotto le direttive del procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, il dottor Salvatore Curcio e del sostituto procuratore, la dottoressa Giulia Maria Scavello, ha consentito di accertare l'esistenza di un sistema fraudolento, che di fatto ha condizionato per oltre un decennio le vendite giudiziarie del comprensorio lamettino. Quale artefice di tale meccanismo illecito vi era cari donna Raffaele, noto soggetto lamettino, il quale in tali casi partecipava personalmente e in altri si avvaleva di compiacenti collaboratori, tra cui avvocati e commercialisti, nonché ganci interni al locale Palazzo di Giustizia e dell'interposizione fittizia di un'agenzia d'affari e servizi, costituita ad hoc ed intestata alla figlia. Difatti riusciva ad ottenere ribassi e preziose informazioni riservate, relative alle aste giudiziarie dei suoi clienti, risultati il più delle volte debitori delle stesse, allorquando le notizie non risultavano utili per il raggiungimento dello scopo, il cali donna avvicinava gli altri offerenti, intimidendoli al fine di farli desistere, aducendo vicinanze ed appartenenze a cosque locali, sovente però stipulava preventivamente accordi con curatori, custodi e professionisti delegati alla vendita. Le risultanze investigative hanno permesso di acquisire numerosi riscontri dei reati contestati da questo ufficio di procura, consentendo di ritenere provata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, anche in considerazione delle condotte illecite perpetrate dagli stessi. Gli accertamenti economico-patrimoniali, delegati ed eseguiti dalla Guardia di Finanza di Lamizia Terme, hanno anche permesso di ricostruire l'effettiva capacità patrimoniale, illecitamente accumulata nel corso degli anni da taluni degli indagati, per il complessivo valore di quasi 4 milioni di euro, pur dichiarando esigue posizioni reddituali, nonché la pilotata giudicazione delle unità immobiliari, oggetto delle accertate turbative d'asta del complessivo valore di 4 milioni e mezzo di euro. Inoltre è stata dimostrata dalla predetta analitica attività d'indagine la sussistenza del reato di autoriciclaggio per un ammontare di circa 270 mila euro, quale provento da attività delittuosa, in quanto il Calidonna e il suo prestanomi dal 2006 ad oggi hanno acquistato all'incanto 20 unità immobiliari per un milione di euro, rivendendole successivamente per un milione e 270 mila euro. All'esito dell'attività di polizia giudiziaria sono stati identificati chiaramente i ruoli dei vari personaggi, che hanno posto in essere le innumerevoli condotte delittuose, nonché il cospicuo patrimonio immobiliare illecitamente accumulato negli anni dagli indagati, che sulla base delle risultanze investigative hanno consentito al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, la dottoressa Rossella Prignani, di emettere un'ordinanza applicativa delle misure cautelari.